Musica Questo libro è nato un po' per gioco, perché paradossalmente è per gioco in una situazione del genere, perché l'argomento non ha niente a che fare con il gioco. Questo libro è nato un po' per l'incitamento dei miei amici di Facebook. A marzo del 2015 ho scoperto di avere un cancro, a parte la prima fase iniziale di sgomento, subito dopo ho pensato che avrei voluto un atteggiamento particolare da chi mi stava intorno. E quindi ho iniziato a scrivere dei post su Facebook più che altro per aiutare me a accettare quello che stava succedendo, e gli altri a non nascondersi davanti a comunque questa malattia, perché tendenzialmente chi ti sta intorno evita, non lo so, non si comporta ma quasi mai nel modo giusto, o è troppo banale o è troppo invadente. Allora io attraverso Facebook raccontavo il mio stato d'animo e cercavo di dire cosa volevo che mi dicessero, di dire il mio pensiero, semplicemente. Qualche mese fa è nata l'idea di pubblicare quelli che erano i fogli del mio diario. E' nato il libro, tutto qui, semplicemente. Un lato importante di questo libro è rappresentato proprio dall'approccio alla malattia, della struttura in cui ti curi, del medico che ti fa la diagnosi, così come del medico che ti accompagna in questo percorso di guarigione o comunque di lotta. C'è una prefazione di Angelo Broccolo, che è un mio caro amico, e prima di me lui aveva pubblicato un libro con la mia stessa casa editrice. E' un po' stato il tramite in questa pubblicazione, e quindi mi sembrava giusto fosse lui a scrivere la prefazione del libro. E c'è un'introduzione del mio medico senologo, che è stato il medico della famosa diagnosi, e poi il medico che mi ha accompagnato un po' in questo cammino, un po' perché mi somiglia particolarmente, un po' sa usare l'ironia al momento giusto, ha sempre le parole giuste nel momento giusto, non lo so, per me è stato così, poi magari detto così sembrerà pure banale, ma in alcuni momenti credo ci sia bisogno di molto tatto. Grazie.